Il Consiglio Metropolitano di Napoli Il Consigliere di Santa Maria Lanova con un ordine del giorno presentato dal gruppo di NCD UDC ed approvato ad onanimità da tutte le forze politiche. Con il documento l'Assemblea impegna il Sindaco Luigi De Magistris anche in considerazione del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Italia Sicura è fortemente impegnata in questo senso a farsi promotore presso le sedi competenti affinché la città metropolitana e tutte le amministrazioni locali ricadenti nella sua area possano aumentare la massa di investimenti per porre in essere interventi realmente incisivi nella direzione di garantire prevenzione e sicurezza nei settori indicati. Rinviata invece l'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Commissione Statutaria mentre con un altro ordine del giorno è stato dato il via libera per l'indizione di un concorso di idee finalizzato alla realizzazione del logo della città metropolitana un logo che sappia offrire adeguata visibilità al territorio dando forma anche grafica al loro udiente di area vasta che caratterizza la nuova istituzione. Grazie a tutti!